Categoria 81, 10 kg, King Boxing, un come sul rosso, di Divisciola, Ali Maure. Categoria 81, 10 kg, un come sul rosso, di Divisciola, Ali Maure. Categoria 81, 10 kg, un come sul rosso, di Divisciola, Ali Maure. Categoria 81, 10 kg, un come sul rosso, di Divisciola, Ali Maure. Categoria 81, 10 kg, un come sul rosso, di Divisciola, Ali Maure. Categoria 81, 10 kg, un come sul rosso, di Divisciola, Ali Maure. Categoria 81, 10 kg, un come sul rosso, di Divisciola, Ali Maure. Categoria 81, 10 kg, un come sul rosso, di Divisciola, Ali Maure. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.